Gian Piero e Simone, vi ringraziamo, sono molto contento che siete venuti numerosi molte persone che non conosco sono venute a questo nostro piccolo evento e una cosa che volevo dire, ogni persona si deve attivare ma attivare vuol dire che so che è fastidioso vedere i parchi non curati dire ok io pago le bollette, pago con la tassa, i parchi non sono curati però mettiamoci anche noi in prima persona, chi ha la possibilità quando sia del tempo libero andare lì, magari comprare dei sacchi, prendere, pulire il parco e cercare di fare il nostro meglio poi quando noi andremo al governo vedrete che tutto quanto si sistemerà, grazie